Musica Amici sportivi appassionati di calcio, vi do il benvenuto allo stadio San Siro di Milano per la videocronaca di Milan-Atalanta! Assisteremo a questa emozionante partita di oggi, speriamo che sia ricca di gol e spettacolo. Mi auguro che una delle due squadre vinca questa partita. L'abitro di questa partita è Leonardo San Milano. La partita inizia con l'Atalanta in possesso di palla. D'Alessandro, Paloschi, Carmona, palla diventata rossonera, Romagnoli, Montorivo, palla persa, Krutic. D'Alessandro, palla diventata rossonera, Vangioni, Montorivo, Buonaventura, Buonaventura mantiene il pallone. Palla riconquistata dagli avversari, Carmona, Krutic. Palla di nuovo in mano a Milan, Montorivo, palla rispinta dagli avversari, palla ripresa da Milan, Romagnoli. Buonaventura. La squadra ospite intercetta bene il pallone, Zucandovic. Gomez, palla ripresa da Milan, Onda. Cerca di mantenere il pallone. Palla nuovamente in mano agli avversari, Toruà. Palla diventata rossonera, Kucca. Attenzione, il pallone entra in rete, gol! Rivediamo un attimo questo splendido gol. Vediamo bene come Kucca è riuscito a fare gol, senza problemi. Adesso il punteggio 1-0 in Milan è in vantaggio. E si riparte con l'Atalanta in possesso di palla. Krutic. Palla ripresa da Milan. Vangioni. Honda. Kucca. Bacca. Attenzione, pericolo! Grande intervento del portiere. Palla finisce fuori campo. E si riprenderà con il rinvio del portiere. Drame. Krutic. Carmona. Palla ripresa da Milan. Montolivo. Bacca. Gli avversari riconquistano la palla. Kessi. Gomez. Kessi. Palla ripresa da Milan. Abate. Abate mantiene il pallone. Fa di tutto per riuscire a passare la palla. Bacca. Attenzione! Il pallone finisce in rete. Goal! Incredibile tiro in porta. Rivediamo un replay. Vediamo come Bacca è riuscito a tirare la palla in porta senza problemi. Bene. Adesso il punteggio è 2-0. Il Milan è in vantaggio. Provano a rubare il pallone agli avversari. E si riparte con l'Atalanta in possesso di palla. Paloschi. Il Milan recupera la palla. Buonaventura. Palla persa. Talessandro. Palla di nuovo in mano a Rossoneri. Vangioni. Palla di nuovo in mano all'Atalanta. Paloschi. Carmona. Gomez. Attenzione! Il pallone finisce in rete. Goal! Incredibile spozzo del giocatore a tirare un pallone in porta. Rivediamo un secondo. Vediamo com'è riuscito a fare il gol senza problemi. Adesso il punteggio è 2-1. Il Milan rimane comunque in vantaggio. Si riparte con la palla rossonera. Antonelli. Palla in mano all'Atalanta. Stendardo. Attenzione! Calcio di punizione contro Milan. Palla diventata rossonera. Paletta. Montorivo. Montorivo mantiene il pallone senza problemi. Fa di tutto per tenere lontano all'anniversario. Attenzione! Pericolo! Il palo respinge il tiro in porta. Che delusione tremenda. Si riparte dunque con il portiere pronto al rinvio. Paloschi. Palla di nuovo in mano ai rossoneri. Bacca. Bacca mantiene il pallone senza problemi. Occasione d'oro. Incredibile respitta del tiro in porta. Palla di nuovo in mano a Milan. Abate. Attenzione! Incredibile parata! E si ripartirà con la rimessa laterale accanto alla bandierina del calcio d'angolo. Palletta. Bacca. Attenzione! Incredibile intervento del portiere! Paloschi. Palla ripresa da Milan. Abate. Mantiene il pallone senza problemi. Attenzione! Pericolo! Il pallone finisce in rete! Goal! Sprendi da rete! Rivediamo un attimo questo gol. Vediamo com'è riuscito a fare un tiro in porta. Tratto senza problemi. Siamo 3-1 in Milan. È in pieno vantaggio. I primi 45 minuti procedono Rosa e Fiori. Che sì! Paloschi. Kürtic. Attenzione! Aia! L'abito interrompe un attimo la partita. Perché c'è qualcosa che non va? Ci sarà un calcio di rigore indiscutibile. Caterino giallo per il portiere. Il portiere ha moderato un atteggiamento scorretto. Ha fatto cadere un giocatore della squadra avversaria. Attenzione! E il portiere dice di no! Trame. Par recuperata da Milan. Bacca. Montolivo. Pala recuperata dalla squadra ospite. Kessi. Kürtic. Pala di nuovo Sonera. Buona avventura. Bacca. Bacca mantiene il pallone senza problemi. Aia! Pala persa. Kessi. Paloschi. Pala di nuovo Sonera. Montolivo. Pala persa. Kessi. Kürtic. Gomes. Pala di nuovo Sonera. Buona avventura. L'arbitro ha concesso un minuto per recuperare. Kuczka. Gli avversari rubano bene il pallone. Bene. Il primo tempo finisce con il risultato di 3 a 1. Tutti quanti negli spogliatoi. C'è l'intervallo. Bene. L'intervallo è giunto al termine. Siamo al secondo tempo. Pala in mano i rossoneri. Buona avventura. Honda. Kuczka. Buona avventura. Paletta. Abate. Montolivo. Kuczka. Attenzione. Attenzione. Il pallone entra. Ed è gol. Incredibile sforzo. A tirare un pallone in porta. Rivediamo questo spettacolare gol. Kuczka è riuscito a fare gol. Bene. Siamo 4 a 1. E si riparte dunque con l'Atalanta in possesso di palla. Paloschi. Attenzione. Fallo commesso dal giocatore del Milan. Sarà calcio di punizione per l'Atalanta. Palla finisce fuori campo. Si riprenderà con il passaggio alto. Palla recuperata da Milan. Honda. Vangioni. Romagnoli. Paletta. Honda. Bacca. Bacca mantiene il pallone. Attenzione. Grande intervento del portiere. Sostituzione per l'Atalanta imminente. Questo serve per dare energie e forze fresche. Ha una squadra sotto nei punteggi. Rimessa laterale per il Milan. Palla finisce nuova fuori. Ulteriore rimessa laterale. Regalano il pallone su questa rimessa. Krutic. Migliaccio. Drame. Palla ripresa da Milan. Antonelli. Montolivo. Antonelli. Palla persa. Krutic. D'Alessandro. Palla ripresa da Milan. Antonelli. Vangioni. Bacca. Attenzione pericolo. Il pallone finisce in rete. Gol. Splendida rete. Incredibile tiro in porta. Rivediamolo un attimo. Vediamo come è riuscito a fare un tiro in porta. Per fortuna senza problemi. Adesso siamo 5 a 1. Il vantaggio dei rossoneri sta aumentando pesantemente. Krutic. Paloschi. Palla recuperata da Milan. Buona avventura. Palla persa. Gomez. Paloschi. Attenzione. Occasione d'oro. Era una buona alternativa per accorciare una distanza. Tentativo di tiro in porta. Purtroppo andato male. E si riparte con il rinvio. Pari in mano agli avversari. Krutic. Gomez. Migliaccio. Krutic. Occhio. Incredibile intervento del portiere. Palla di nuovo rossonera. Paletta. Vangioni. Buonaventura. Antonelli. Ripresa dagli avversari. No. Sempre a mira. Antonelli. Attenzione. Il pallone finisce in rete. Ed è gol. Incredibile tiro in porta. Rivediamo un attimo. Vediamo com'è riuscito a fare il gol. Bene. Siamo 6 a 1. Recuperare lo svantaggio sembrava una missione impossibile. Ma i rossoneri ce l'hanno fatta. Palla recuperata da Milan. Romagnoli. Buonaventura. Bacca. Palla recuperata dagli avversari. Stendardo. Krutic. Carmona. Migliaccio. Paloschi. Krutic. Gomez. Incredibile autogol. Queste cose non dovrebbero proprio succedere. Rivediamo come si è verificato. Per sbaglio hanno praticato un autogol. Siamo 6 a 2. In Milan rimane comunque in vantaggio. I rossoneri fanno di tutto per riparare l'errone. Ma perdono palla. Tolua. Paloschi. Palla recuperata da Milan. Montorivo. Attenzione. Incredibile parata del portiere. Carmona. Palla di nuovo in mano ai rossoneri. Vangioni. Vangioni mantiene il pallone. Attenzione. Il pallone finisce in rete. Ed è gol. Splendido tiro in porta. Rivediamolo. Vediamo com'è riuscito a tirare il pallone in porta. Adesso siamo 7 a 2. Il Milan è in pieno vantaggio. Se continua così arriverà la vittoria. Gomez. Migliaccio. Paloschi. Gomes. Fala ripresa da Milan. Romagnoli. Romagnoli mantiene il pallone senza problemi. Attenzione. Il pallone finisce in rete. Ed è gol. Splendido tiro in porta. Rivediamo un attimo in replay. Vediamo com'è riuscito a fare un tiro in porta. Siamo 8 a 2. Il Milan resta in vantaggio. Come avevo già detto arriverà alla vittoria. Bacca. Pari mano agli avversari. D'Alessandro. Rabito interrompe il gioco per la doppia sostituzione imminente. Che serve per dare energie e forze fresche. Per una squadra che è sotto. D'Alessandro. Pari recuperato da Milan. Vangioni. Buonaventura. Montolivo. Cucca. Montolivo. Abate. Cucca. Romagnoli. Paletta. Abate. Cucca. Montolivo. Bacca. Montolivo. Buonaventura. Antonelli. Palapersa. Candreva. Palacuprata da Milan. Bacca. Pala riconquistata dagli avversari. D'Alessandro. Toglua. Migliaccio. Carmona. D'Alessandro. L'arbitro ha concesso un minuto per recuperare. Pala recuperata dai rossoneri. Antonelli. Montolivo. Onda. Cucca. Bene, possiamo considerare la partita finita. Vittoria per il Milan. Risultato 8 a 2. Bene, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti. Buonaventura. 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 Buonaventura.